Continua la stagione dell'amore al grande fratello Vip e pare proprio che stia nascendo una nuova coppia. Infatti, dopo aver visto sbocciare l'amore tra Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie e tra Sofì Codegoni e Alessandro Basciano, adesso sembra che ci sia un nuovo flirt nell'aria e proprio nelle ultime ore è scattato il tanto atteso bacio. Per l'appunto, ieri sera due Viponi molto amati dal pubblico si sono finalmente baciati per la prima volta. Tuttavia, la regia del GFVip li ha censurati e il bacio in questione non è neanche andato in onda. Inutile dire che il pubblico si è infuriato molto e ha sbottato contro gli autori della trasmissione. Difatti, tutto ha avuto inizio quando Jessica Selassie ha riferito agli altri inquilini che Federica Calemme e Gian Maria, Antinolfi si erano baciati. Purtroppo, però, sembra che il loro bacio sia sfuggito alla regia e per questa ragione non è andato in onda. Ma come Gian Maria e Federica si sono baciati e lo hanno nascosto? Non ci hanno fatto vedere nulla. Si legge sui social. Inoltre, i telespettatori della diretta di Mediaset Extra si sono arrabbiati ancora di più dopo aver scoperto che la regia aveva preferito trasmettere la partita a biliardo di Giucas, anziché il bacio tra la Calemme e Antinolfi. Insomma, stavolta il GF ha fatto un grosso scivolone e gli spettatori non l'hanno affatto presa bene.